Il tempo che passa lo vediamo soprattutto sulla nostra pelle, che è fatta di tre strati, epidermide, derma e ipoderma. L'epidermide si assottiglia, ma il vero dramma si compie nel derma, dove c'è questa cellula che si chiama fibroblasto, che smette di funzionare o funziona in maniera non più ordinata e non produce più il collagene, l'elastina, le fibre elastiche ed ecco che noi andiamo incontro a perdita di tono, alla comparsa delle rughe, tutto questo per la mancanza di queste sostanze non più prodotte dal nostro fibroblasto. Gli integratori che apportino queste sostanze sono stati spesso criticati perché non è possibile che raggiungano il derma. In effetti non è facile che queste sostanze possano migrare nella pelle una volta ingerite, vuoi perché lo stomaco li può denaturare, vuoi perché non sono ben assemblate con altre sostanze che magari ne potenziano l'effetto, vedi la vitamina C per esempio, però oggi abbiamo degli integratori che hanno dimostrato con studi clinici che l'insieme, l'assemblaggio di alcuni componenti ben strutturati può attraverso la nutrizione, quindi attraverso l'assorbimento per via orale, portare queste sostanze a livello del derma e diventare un valido aiuto per supportare questa deficienza di questo nostro fibroblasto.